qua i posti quando noi eravamo ragazzini questi erano posti che tutta questa sabbia qua non c'era qua erano tutti scogli qua erano tutti scogli completamente noi qua e io come tutti gli altri come Franco oppure il padre di Roberto noi qua ci camminavamo a piedi sugli scogli ormai avevamo i piedi sotto il piede erano meglio delle sole delle scarpe perché ormai noi ci giocavamo a pallone qua là c'era un posto che era rettangolare come il pallone e da lì c'era un posto che usciva frullavano le carrubbe a suo tempo frullando le carrubbe andavo a finire ciao andavo a finire là sopra questo campetto e ci giocavamo a pallone ci giocavamo molto a piedi scalso perché allora i scaipi non c'era c'erano solo i scaipi dalla rumena a finire a finire Grazie.